Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato oggi una nuova poesia da titolo Amico Povero. Spero che dopo la spedirete su tutti i vostri contatti Whatsapp. Considerazioni sulla poesia. Ho creato questa poesia per dedicarla ad un amico povero che se ne sta gettato per strada solo, quindi un barbone, senza una casa e neanche il minimo indispensabile per vivere. Mi chiedo e mi domando, e per appunto sapere, capire, come fa a sopportare la freddezza delle persone che gli passano davanti e non lo considerano per niente. A volte solo qualcuno gli dà qualcosa. Io ammiro questo povero perché per me assomiglia al Cristo in cruce, abbandonato appunto dalla gente e senza che nessuno gli dia voce e attenzione. Appunto, ogni povero ha la sua cruce ed è pesante da portare perché è carica del fardello e di tutte le umiliazioni delle persone, di una povertà data da una vita senza tante risorse per vivere e quindi ammiro i poveri perché nei poveri c'è la ricchezza della vita appunto. Vi leggo adesso la poesia dal titolo Amico Povero. Caro amico povero, ma come fai a startene gettato per strada solo, senza una casa, senza coperte? Caro amico povero, ma come fai a sopportare la freddezza delle persone, l'insensibilità e le offese? Amico povero, io ti ammiro, assomigli al Cristo in cruce, abbandonato lì dalla gente, senza più né pace né voce. Amico povero, hai una cruce, pesante da portare, ma ascolta, lassù la tua voce, la carità di Dio ricerca. Grazie